buongiorno a tutti oggi andiamo a vedere come si fa questo punto che si chiama caduceo ed è una treccia particolare perché forma questa onda che si testa sempre in rilievo rispetto alla treccia quindi non ha che si intreccia davanti e dietro sta sempre in rilievo una treccia molto semplice è su quattro punti e vi faccio vedere come si fa allora per avviare il lavoro dovete avviare sette maglie cioè un multiplo di 7 quindi 7 14 21 a quel numero lì dovete aggiungere tre maglie che serviranno per fare questo bordo da questa parte a rovescio più i divagni che sono una destra una sinistra quindi più due comunque vi lascio tutto scritto nella mia pagina facebook se volete vedere le spiegazioni anche scritte venite sulla pagina facebook e sul gruppo dove possiamo anche voi potete fare domande se non avete capito qualcosa se avete delle richieste da fare e io cercherò di rispondere a tutti o di farvi dei tutorial specifici comunque li troverete tutte le spiegazioni anche scritte di tutti i punti che pubblico detto questo cominciamo a farlo io qua sono arrivata a un sedicesimo ferro il punto inizia lavorando un primo ferro a 3 maglie rovescio e 4 dritti per tutto il ferro terminando con tra rovesci i ferri 2 3 e 4 si lavorano esattamente nella stessa maniera dritto su dritto rovescio su rovescio l'incrocio cominceremo a farlo sul quinto ferro poi si lavorerà il sesto ferro come si presentano il settimo l'ottavo il nono il decimo di nuovo come si presentano perché a questa questa parte dritta e poi si farà l'incrocio sull'undicesimo ferro dopo quel ferro si fa il dodicesimo il tredicesimo quattordicesimo quindicesimo il sedicesimo di nuovo come si presentano sempre per dare l'altezza alla treccia e poi si ripartirà con l'intreccio del quinto quindi i ferri che vanno dall'1 al 4 si fanno una volta e poi non si lavorano più quindi io adesso sono al sedicesimo ferro andrò a fare l'incrocio del quinto ferro vediamo come si fa avrete bisogno di questo ferro qua che si chiama ferra ausiliario è fatto come scusate è fatto come una piccola v dove lascerete in sospeso i punti davanti o dietro questo piccolino perché io sono andato a usare dei ferri del tre e mezzo ci sono anche più grandi solitamente sono in due misure una più piccola una più grande perché a seconda della lana avrete bisogno di un ferro ausiliario un pochettino più grande se non aveste questo ferro che comunque lo trovate in qualsiasi merceria va bene anche una molletta o uno stuzzicadenti io se non ce li ho uso quelli ok allora vado io ho fatto cinque punti a grana di riso mi raccomando se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale potete seguirmi su facebook dove appunto troverete anche troverete anche le spiegazioni scritte e mi raccomando cliccate sulla campanellina così verrete avvisate quando faccio degli altri tutorial quindi qua riprendiamo il lavoro tre punti a rovescio adesso qua mi trovo i quattro punti a dritti metto due punti sul ferro ausiliario così come si presentano e li lascio dietro al lavoro lavoro i due punti a dritto e poi rimetto sul ferro i due punti con lasciato in sospeso ed il lavoro a dritto 3 per 3 maglia rovescio e due agli dietro 3 maglia rovescio 2 maglie sul ferro ausiliario ne lascio dietro lavoro le altre due a dritto ne rimetto sul ferro e lavoro a dritto anche loro poi 3 maglia rovescio 2 maglie sul ferro ausiliario ne lascio dietro nel lavoro 2 a dritto e due maglie nel lavoro e poi finisco questi sono i tre punti che aggiungiamo al calcolo poi giriamo il nostro lavoro e lavoriamo le maglie come si presentano fino al ferro numero 11 nel quale faremo l'altro il l'altro l'altro intreccio quindi qua lavoro i tre dritti i quattro rovesci e andando avanti così fino alla fine del ferro tre dritti e quattro rovesci siamo arrivati all'undicesimo ferro a questo punto facciamo il secondo incrocio e poi si prosegue così fino all'altezza di cui ne avete bisogno allora faccio sempre i miei cinque punti a grana di riso i miei tre punti a rovescio e ho i quattro punti a dritto adesso l'altra volta se vi ricordate abbiamo spostato due punti dietro questa volta invece andiamo a spostare sul davanti del lavoro quindi vi portiamo davanti a noi lavoriamo due maglie a dritto così li rimettiamo sul ferro e le lavoriamo a dritto anche queste e tra rovesci due maglie davanti e 2 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Adesso, a questo punto, vedete che si forma quest'onda che rimane in rilievo sopra. Vedete? Fa questo lavoro qua. Adesso, nel ferro di ritorno, lavorate i punti come si presentano. Quindi, 3 dritti, 4 rovesci, 3 dritti, fino alla fine. E poi, lavorate i ferri 12, 13, 14, quindi questo è il dodicesimo, quindi 13, 14, 15 e 16. Ne lavorate con i punti come si presentano. E poi, ripartite a fare l'intreccio dal quinto. E poi, ripartite a fare l'intreccio. Ecco, a questo punto, lavorate i ferri. Noi abbiamo lavorato qua il dodicesimo ferro, lavorate il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo, esattamente così come si presentano. E poi, rifate l'intreccio a partire dal quinto ferro, quindi con le due maglie dietro al lavoro. E' un punto molto semplice, ma che ha una bellissima resa. Ed è adatto sia per copertine, anche per maglie, per quello che volete. E' veramente bello. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e cliccate sulla campanellina, così verrete sempre avvisati quando pubblico nuovi video. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.